Ciao, io sono Antonio Giampaolo, produttore della Maestro. Oggi abbiamo proiettato qui alcuni dei nostri lavori, abbiamo fatto nell'ultimo periodo i video di Ultimo, Alessandra Moroso, Maniskin che hanno trionfato a Sanremo, chiamami per nome di Fedez Michelin, abbiamo visto anche dei video di Tommaso Paradiso con cui abbiamo costruito una saga che ormai va avanti da anni di tutta una serie di videoclip in chiave cinematografica. Abbiamo anche proiettato il promo del documentario sulla nazionale di calcio italiana neo vincitrice degli europei, spero che vi sia piaciuto. Progetti futuri abbiamo già in cantiere dei video che gireremo a settembre perché ad agosto i videoclip non si girano, è una regola, quindi il nostro anno finisce ad agosto in realtà, non a dicembre perché il 24 abbiamo girato quest'anno. Spero un giorno di poter venire qui ad Ariano ad ambientare uno dei nostri music video, sarebbe molto bello e spero di poter contare sulla vostra collaborazione. Ci vediamo presto, magari sul campo per vedere di fare qualcosa. Ciao a tutti!